TikTok? Ancora niente? Sei ancora di quelli che... Io non scaricherò mai TikTok! Scherzo, ti prendo in giro. Al contrario, io chiedo a chi vive su TikTok di provare l'esperienza del canale YouTube di un italiano vero. Se tu sei qua, resta qua. Ci penso io ad aggiornarti su quello che succede di là. Su TikTok. Ma pochissimi, pochissimi degli amici di TikTok accettano l'invito a venire di qua. Perché? Perché per molte persone TikTok è l'ambiente naturale. A tante persone piace TikTok. Preferiscono TikTok a YouTube. Perché? Non c'è un perché. Così come a qualche persona piace la Spagna ed altri preferiscono la Francia. Non lo so. Resta qua. Io dico che per l'offerta di un italiano vero YouTube è irrinunciabile. Ci sono più cose qui su YouTube. Ci sono sei anni di video di lacrime e di sangue. Ci sono sei anni, sette anni ormai di contenuti. E poi qui su TikTok, anzi vedi adesso sbaglio, qui su YouTube, forse ho detto TikTok anche prima, volevo dire YouTube. Qui su YouTube, YouTube, YouTube c'è lo spazio dei commenti che è molto più interattivo. Si possono fare più cose. C'è più spazio per la scrittura dei propri testi, dei propri commenti. E poi io posso rispondere con collegamenti ad altri video. Su TikTok lo spazio è più limitato e si possono fare poche cose. Però, vabbè, io pubblico un po' di contenuti di là, poi li riporto anche di qua e vediamo che cosa salta fuori. Vediamo di accontentare tutti e vediamo di rispondere alle richieste delle amiche e degli amici di TikTok. Dei nuovi amici, tanti nuovi amici. Continuano le iscrizioni, le tantissime nuove iscrizioni al profilo TikTok di Unitaliano Vero. Ho ben presente, forse per la prima volta dopo questi quattro anni di esperienza su TikTok, ho ben presente un gruppo di riferimento perché arrivano tanti commenti e questi commenti sono spesso simili per il tipo di richiesta e anche per il tipo di mittente. Mi scrivono soprattutto ragazzi, in questo ultimo periodo, e ti parlo di questo ultimo periodo, mi scrivono ragazzi, giovani, da poco in Italia, quindi migranti che adesso sono in Italia, che vogliono imparare l'italiano, che sono all'inizio del percorso di apprendimento, vogliono continuare e mi chiedono aiuto. Ibrahim mi ha proprio chiesto aiuto, mi ha chiesto un aiuto per imparare l'italiano e io sono ben lieto di dare un aiuto. Aiuto è maschile in italiano, io do, senza accento, io do volentieri un aiuto a Ibrahim. Come? Qua su YouTube ci sono sei anni di video, di contenuti, di storia, tutto gratis. Però io non posso dare a chi mi chiede aiuto la voglia di imparare, o meglio, io posso stimolare, posso incoraggiare gli studenti, ma senza la voglia che uno studente deve avere, io non posso fare niente. Per cui io ho cercato di sondare in questo video la volontà di Ibrahim. Ho fatto il processo alle intenzioni. No, ho detto a Ibrahim, vabbè, insomma, non ti dico niente. C'è il video, buona visione, fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi. Ciao! Ibrahim, finalmente, dopo sei giorni ti rispondo, ti chiedo scusa, scusa per il ritardo. Perdono, tu mi perdonerai, sono sicuro, perché sei gentile. Sei gentile perché hai sempre risposto alle mie domande. Ti ho fatto qualche domanda, non per curiosità, non sono una persona curiosa, ma per capire come aiutarti. Ti ho chiesto se vivi in Italia, mi hai detto di sì. Ti ho chiesto da quanto tempo vivi in Italia, abiti in Italia? E tu mi hai risposto che abiti in Italia, a Bologna, bellissima città, da quattro mesi. Vuoi usare il verbo fare come hai fatto tu in un commento? Allora, oltre al participio passato, devi usare anche l'ausiliare, se usi il passato prossimo. Ho fatto quattro mesi in Italia. Però ti suggerisco di usare il verbo essere. Io sono in Italia da quattro mesi. Adesso siamo ad agosto, tu mi hai iscritto a luglio. Da quattro mesi vuol dire che sei in Italia da marzo 2024. Benvenuto in Italia. Un po' in ritardo, ma ti dico benvenuto e spero che tu in Italia trovi tanta felicità, trovi tanta soddisfazione e trovi il modo di imparare l'italiano. E qua arriviamo alla tua domanda. Spero di interpretare bene. Come puoi aiutarmi a parlare bene l'italiano? Era questo che volevi dire? Cioè, tu mi hai chiesto come io possa aiutarti? Allora, ripassiamo la coniugazione del tempo presente, modo indicativo, del verbo potere. Io posso. Io posso. Tu puoi. Puoi. Come puoi aiutarmi? Tu hai scritto cosa. Cosa puoi fare? Allora puoi dire. Cosa puoi fare per aiutarmi a parlare bene? Oppure come. Come puoi aiutarmi? Ma andiamo avanti con la coniugazione del verbo potere. Io posso, tu puoi, lui, lei può. Con la o aperta. Può. E c'è anche l'accento grafico. Noi possiamo, doppia s, voi potete, loro possono. Come puoi aiutarmi. C'è questo pronome personale complemento diretto mi con la i finale. Hai due possibilità. O metti il pronome personale prima del verbo potere o dopo, unito in fondo al verbo che segue il verbo potere. Come mi puoi aiutare o come puoi aiutarmi in mezzo, no, l'italiano è diverso dal francese, come mi puoi aiutare o come puoi aiutarmi a parlare. Dopo a, il verbo va all'infinito. Io ti posso aiutare, adesso ti rispondo, ti posso aiutare in tanti modi. C'è un modo gratuito in cui ti posso aiutare e ti posso aiutare con il canale YouTube Un Italiano Vero. Lì troverai più di 3000 video, tutti dedicati agli studenti della lingua italiana. Sul canale YouTube puoi scrivere un commento, puoi fare pratica della lingua italiana e allora tu aiuterai te stesso, non sarò io ad aiutarti, ma tu ti aiuterai e io ti potrò aiutare, io ti posso aiutare, usiamo ancora il presente, io ti posso aiutare solo se prima tu ti aiuterai, aiuterai te stesso, come? Con la pratica quotidiana, con l'impegno quotidiano. Ibrahim, tu hai veramente voglia di imparare l'italiano? Se la risposta è sì, allora io ci sarò sempre per aiutarti, ma solo se avrai veramente voglia. Restiamo in contatto qui su TikTok, sul canale YouTube, dimostrami che hai veramente voglia. L'invito è rivolto a tutti. Chi ha veramente voglia, chi vuole impegnarsi veramente, troverà qui l'aiuto che cerca. Un caro saluto. Ciao. Grazie a tutti.